Io sono vero, sono onesto, a me non mi serve giocare, portare avanti, storie. Se sei davvero attrazione con una donna non è solo il bacetto. Che c'entra? Scherzando, noi ieri ci siamo detti, non vedo l'ora di vederti, va bene. Ho detto perché non vedo l'ora di stare a due centimetri da te. Noi a due centimetri siamo arrivati, perché voglio dire, se ti piace una persona... Poi hai scelto un'altra. È così. Voglio dire, questo interesse lui decanta, però sei mai arrivato a quei due centimetri che intende lei, assolutamente no. Quindi, di cosa stiamo parlando, non ho capito. Del nulla, infatti, stiamo parlando del nulla. E non può capitare che una persona conosci, magari, vedi che, che altrimenti ne ha segnati. Hai fatto quella finta scenata l'altra volta, dicendo che ti interessa. E ripetutamente decanta questo bene, no? Però poi non vuole il tuo bene. Io voglio una donna che sta accanto a me, che vuole il mio bene, no? Che mi dice ripetutamente... Allora non aggiungere parole nulle di come hai fatto la vostra scorsa. Ripetutamente ti voglio bene, faccio cose per te, ti adoro, ok? E poi non vuole il mio bene. Perché una donna nel percorso di un mese e mezzo, che ripetutamente, non vuole il mio bene, non vuole il mio bene. Non possiamo pretendere sempre dagli altri, dobbiamo metterci in discussione. Assolutamente, è giustissimo, d'accordissimo. Michele, ma tu non vuoi una donna, tu è una bambola, ti dice sempre sì, ti dice sempre sì, ti dice lì, zitta, non parla e non fa niente. Tu questo vuoi. Allora non vuoi.